Grazie alle Proloco sarà possibile svolgere il servizio civile ma a favore delle comunità locali? Sì, questo è un bellissimo risultato che l'UMPLI regionale e il responsabile regionale Loredana Caverni hanno portato avanti questo progetto veramente importante. Le Proloco si sono impegnate veramente tanto e questo ne è il risultato. 23 giovani potranno lavorare presso le nostre Proloco, prestare servizio civile presso le nostre Proloco. Le Proloco sono 5 in questo momento ma mi auguro che si attivino tante altre Proloco e quindi va dato un plauso. Le Proloco che fino adesso si sono impegnate perché comunque c'è un lavoro dietro e stanno facendo un ottimo lavoro. Se oggi possiamo dire che nella nostra provincia il bando scade il 30 giugno, diamo la possibilità a 23 giovani da 18-28 anni di poter impegnarsi per la cultura, per il sociale, penso che questa sia una bella risposta anche culturale nel nostro territorio e poi soprattutto comunque 23 giovani che per un anno avranno un impiego. Questo credo che sia un ottimo risultato da parte delle Proloco e non può che rendermi orgoglioso. Quali sono le Proloco? Le Proloco sono Monbaroccio, San Costanzo, Mondavio, Santa Maria dell'Arzilla e Fermignano. E ricordo a tutti che entro il 30 giugno alle ore 14 scade il termine ultimo per presentare le domande. Quindi vi invitiamo tutti ad andare nelle sedi delle nostre Proloco per accedere alle domande ai bandi oppure scaricabile sul sito del Servizio Civile Nazionale.